Il titolo della mia relazione è Novità terapeutiche nelle neoplasie mieloproliferative croniche. Vi parlerò un pochettino cercando di semplificare la cosa di quello che bolle in pentola, che non è ancora disponibile per la maggior parte dei pazienti in termini di farmaci, e poi appunto parleremo anche un pochettino del trapianto di midollo. Questa diapositiva è per farvi vedere quanto complesso è il quadro che sta alla base dello sviluppo delle malattie mieloproliferative Philadelphia negative. Ne hanno già parlato tutti i relatori precedenti. Naturalmente GEC2, che è questo recettore presente sulla superficie cellulare, è una causa importante ed è un determinante importante per lo sviluppo di queste malattie. Come vi è già stato detto, GEC2 è un recettore per ormoni che stimolano la crescita delle cellule del sangue, l'eritropoietina, la trombopoietina. Quando è mutato è sempre attivo, come ha detto con una bella espressione il dottor Mauro, è come avere un turbo nella cellula, ma il GEC2 è solo la punta dell'iceberg. Il GEC2 è sulla membrana cellulare, dà via a una serie di segnali all'interno della cellula che fanno sì che la cellula prolifere di più, non vada in contramorte, non si differenzi o quant'altro. Però c'è tutto un mondo al di sotto di GEC2, tutta una serie di molecole, vie metaboliche che sono coinvolte. Questo è solo per farvi capire quanto complessa è la biologia di queste malattie. Queste che vedete in questi riquadri grigi sono tutti i possibili sedi di azione di farmaci, vie metaboliche del segnale, molecole all'interno della cellula, tutte potenzialmente colpibili. Quindi, a differenza della leucemia meloide cronica, di cui vi è stato parlato all'inizio, che è una malattia caratterizzata da una singola mutazione, quella prodotta dal cromosoma di Philadelphia, in cui è quindi relativamente facile andare ad agire, un interruttore, spengo quell'interruttore, la malattia risponde. Le malattie mieloproliferative sono molto più complesse dal punto di vista biologico, quindi questo giustifica anche il fatto che l'inibizione di GEC2, GEC1, non è sempre sufficiente a risolvere il problema, non risolve tutti i problemi dei pazienti con malattie mieloproliferative, ma apre anche la porta a possibili terapie, diciamo, alternative. Ho diviso la mia presentazione nel capitolo mielofibrosi, che è la malattia più aggressiva di queste, della malattia in cui in questo momento, come vi dicevo, il ruxolitin, quindi l'inibitore di GEC2, è registrato, e poi malattie polistemia vera e trombocitemia essenziale. Naturalmente, l'aggressività della malattia, il fatto che è una malattia, come diceva giustamente il dottor Festini, che ha un carico sintomatico abbastanza importante, ha portato la mielofibrosi a essere la prima patologia in cui sono stati testati gli inibitori di GEC2, e in particolare il ruxolitinib, che potete conoscere con il nome di Giacavi o quello che è, prodotto dalla Novartis, che ha completato il suo sviluppo, è stato testato in numerosi studi, è stato ben caratterizzato ed è stato approvato per l'utilizzo nella mielofibrosi. In questo momento, per la mielofibrosi a rischio intermedio o alto, e il farmaco è approvato, registrato e rimborsabile, si sta aprendo all'utilizzo anche per la mielofibrosi in fase più iniziale. Naturalmente, la scoperta che l'inibizione di GEC2 era efficace nel controllare alcune manifestazioni della malattia, come la splenomegalia e i sintomi, ha aperto alla ricerca di altri inibitori di GEC2 o GEC1, quindi delle molecole GEC, come era avvenuto per la mieloide croniche, in cui, scoperto il primo inibitore di BCR-ABL, ne sono venuti degli altri per i pazienti che erano resistenti. E quindi ci sono tantissime altre molecole che sono state testate. Il problema è che lo sviluppo di molte di queste molecole è stato interrotto, o perché le molecole non erano efficaci, o perché causavano, accanto a un effetto benefico, anche degli effetti tossici più importanti. Vedete che molti di questi farmaci, come avviene, voi sapete che quando, diciamo, di mille nuovi farmaci che vengono sintetizzati in laboratorio o pensati in laboratorio, solo pochissimi raggiungono la fase clinica, perché c'è naturalmente una morte durante lo sviluppo elevatissima, perché il farmaco non è efficace o è troppo tossico. Quindi ci sono una serie di fasi nello sviluppo di un farmaco, e un farmaco può interrompere il suo sviluppo in diverse di queste fasi. Questi inibitori sono stati interrotti in diverse fasi di sviluppo, fase 1, fase 2, fase 3, per o mancanza efficace o per effetti collaterali. Il fedratinib, che era un farmaco parecchio promettente, è stato interrotto perché nei primi studi si è visto che provocava dei casi di encefalopatia importante, quindi il suo sviluppo è stato interrotto. Un altro farmaco, che è il pacritinib, un altro inibitore di GEC, ha completato i suoi studi, si è dimostrato efficace, ma è stato bloccato temporaneamente perché dava degli effetti collaterali di tipo cardiovascolare e delle emorragie. L'unico altro inibitore di GEC2 che è ancora in fase di sviluppo è questo farmaco qui, che si chiama Momelotinib, che sta valutando i pazienti, vi mostrerò alcune diapositive, che sta valutando l'efficace, che però è ancora in fase sperimentale, quindi non sono farmaci ancora disponibili. Ad oggi l'unico farmaco disponibile in commercio e prescrivibile tra gli inibitori di GEC è il Ruxolitinib. Questo studio, che vi dicevo, dirò due parole su due inibitori alternativi, che sono il Pacritinib e il Momelotinib, questi farmaci hanno avuto lo sviluppo corretto. Passata la fase 1, dove si vede se il farmaco non è troppo tossico, la fase 2 in cui viene analizzato in una piccola percentuale di pazienti, un farmaco per essere approvato deve dimostrare di essere superiore alla terapia convenzionale e questa è stata la strada del Ruxolitinib, che si è dimostrato migliore nel controllo della milza e dei sintomi rispetto alle terapie convenzionali, l'oncocarbide o altro. Anche questo farmaco, il Pacritinib, è stato testato in uno studio randomizzato, cioè in cui i pazienti vengono arruolati e vengono divisi in un modo statistico tra ricevere il farmaco o ricevere una terapia di supporto, oncocarbide o altri interferoni o altre terapie a discrezione del medico, e questo farmaco è stato studiato in questo protocollo che si chiama Persist, che ha diviso i pazienti a ricevere il farmaco o a ricevere una terapia di tipo alternativo. E vedete che confrontata con la terapia alternativa, questa è una, diciamo, si vedono spesso negli studi degli inibitori di Jack, questa è la milza al basale, l'obiettivo primario di questo studio era la valutazione della riduzione della milza, perché questi farmaci, come vi diceva il dottor Festini, sono specificatamente attivi nel ridurre le dimensioni della milza e nel controllare i sintomi e possono avere anche altri effetti, ma questi sono i loro due effetti principali e questa è praticamente una schematizzazione, i pazienti partono al punto zero e hanno la loro milza che sia di 5, 10, 15, 20 centimetri e poi si misura la riduzione e più lunga è verso il basso questa colonina e più si è ridotta la milza. Vedete, questa è una riduzione di oltre il 70%, questo paziente è ridotto e ogni singola colonina è un paziente e quindi si vede che la maggior parte dei pazienti tratte con il farmaco riduce le dimensioni della milza, chi del 5%, chi del 10%, chi del 20%, il cutoff era il 35% di riduzione della milza e vedete che una quota significativa di pazienti riduce la milza del meno del 35%, molto di più rispetto alle terapie convenzionali. questo braccio di controllo non aveva ruxolitinib, quindi non si confrontava questo nuovo inibitore con il ruxolitinib, ma si confrontava appunto, come dicevo, con l'oncocarbide, con l'interferone, con quello che il medico curante riteneva la miglior terapia alternativa. E vedete che effettivamente molti più pazienti trattati col farmaco riducono la milza rispetto a chi non prende il farmaco. Questi pazienti qua sono i pazienti in cui la milza invece che ridursi cresce del 10, 20, 30%, una piccola quota di pazienti trattati col farmaco aumentava le dimensioni della milza, molto maggiore, circa il 50% dei pazienti non trattati con il farmaco per una evoluzione naturale della malattia aumentava le dimensioni della milza. L'altro farmaco che è in fase di sviluppo, come vi dicevo, questo farmaco, questo pacretinib, è stato temporaneamente sospeso sul sviluppo clinico per chiarire meglio su eventuali tossicità dal punto di vista cardiologico e dal punto di vista del rischio emorragico. L'altro inibitore di GEC2, che è ancora in fase sperimentale, è questa molecola che si chiama momelotinib, che è stato, diciamo, studiato e che è in corso di studio in due setting di pazienti. Sono stato studiato sia in uno studio randomizzato che ha ruolato, vedete, 420 pazienti, quindi non numeri piccoli, sono studi grossi, multinazionali, multicentrici internazionali, in cui centri di alto livello, a livello europeo, statunitense, asiatico, arruolano i loro pazienti e confrontano il farmaco contro il ruxolitinib o contro la miglior terapia disponibile, sia in pazienti mai trattati con inibitore di GEC2, sia pazienti già trattati con ruxolitinib sostanzialmente. L'unica diapositiva che vi mostro di questo farmaco è un farmaco sicuramente efficace in una quota di pazienti, ma quella che è la caratteristica principale di questo farmaco, di questa molecola, è che è l'unico degli inibitori di GEC2 che non ha un effetto di tossicità sui globuli rossi, quindi è un farmaco che è efficace anche nel controllo dell'anemia. Non è molto chiaro perché questi farmaci che vanno ad agire tutti sulla stessa molecola abbiano delle proprietà diverse, delle potenze diverse, degli effetti collaterali diversi. Questo non è ancora perfettamente chiaro, probabilmente sono delle interazioni anche con altre vie metaboliche in quella complessa rete che vi ho mostrato nella prima diapositiva. Però il momelotinib si è dimostrato in grado non solo di ridurre la milza nella solita quota di pazienti, come dicevo prima, nessuno di questi farmaci è attivo nel 100% dei pazienti, ma neanche nel 90% dei pazienti. Sono farmaci che sono attivi tra il 50, il 30, 35, 40% dei pazienti. Il momelotinib è un farmaco attivo nel ridurre in circa il 40% dei pazienti le dimensioni della milza, ma anche un farmaco che è in grado di dare un miglioramento dei sintomi, ma è anche un farmaco che è in grado di migliorare l'anemia, non solo per l'effetto che anche il ruxolitinib, che inizialmente può ridurre il livello di emoglobina, ma poi riducendo la milza e riducendo quindi quella spugna che ingabbi i globuli rossi da un miglioramento dei livelli di emoglobina, sembra avere anche proprio un effetto diretto sulla produzione di globuli rossi, tanto che una quota di pazienti significativamente elevata, intorno al 40-60%, ottiene una indipendenza dalle trasfusioni. C'è pazienti che iniziano lo studio dovendo fare anche trasfusioni di sangue, che poi mano a mano con la terapia migliorano il loro livello di emoglobina e diventano trasfusioni indipendenti, con una risposta totale sull'anemia dell'80%. Questo farmaco, quindi forse il più promettente degli inibitori di GEC che non sia il ruxolitinib, è ancora però in fase sperimentale, non è ancora disponibile. Al di là del GEC, vi ho detto, c'è questa rete molto complessa, ci sono diversi punti in cui si può agire. Questo è un farmaco che è stato sviluppato alla Mayo Clinic negli Stati Uniti, che è uno dei centri di eccellenza a livello mondiale per lo studio delle malattie mieloproliferative, che è un inibitore delle telomerasi. Le telomerasi sono dei frammenti che sono alla fine del DNA, sono dei pezzettini attaccati alla fine del DNA, che stabilizzano il DNA e facilitano o impediscono la trascrizione, quindi l'attività di questo gene. Chi ha dei livelli di telomerasi molto lunghi, chi ha questi enzimi particolarmente sviluppati, ha una capacità elevata proliferativa, e quindi rende la cellula che ha elevati livelli di telomerasi una cellula più prona alla proliferazione, quindi una cellula che può proliferare anche all'infinito. Questo farmaco, l'imetestate, è un inibitore delle telomerasi, è come se fosse una forbice che va a tagliare quel pezzettino lungo alla fine del DNA. È stato testato sia nei pazienti con mielofibrosi, che in una quota più piccola nei pazienti con trombocitemia essenziale, sempre in studi svolti negli Stati Uniti, pazienti ad alto rischio, e ha dimostrato una certa efficacia, quindi con i soliti numeri, intorno al 30-35% di pazienti con riduzione della milza, meno efficaci di altri trattamenti sui sintomi, quindi sulla perdita di peso, sulla febbre, sulle sudorazioni, con alcuni livelli di tossicità a livello delle cellule del sangue, quindi tossicità ematologiche, che però non spaventano particolarmente l'ematologo, ma soprattutto delle tossicità a livello epatico, incremento delle transaminasi, incremento della bilirubina, che ha un pochettino smorzato l'entusiasmo verso questo farmaco. Però è un principio, un concetto di attività sulle cellule che può essere molto interessante, che potrebbe essere sviluppato in futuro. Un'altra classe di farmaci che potrebbe trovare sviluppo nella mielofibrosi sono dei farmaci che vanno ad agire sulla fibrosi midollare. Come vi ha mostrato il dottor Festini, la fibrosi midollare naturalmente è il paradigma clinico e biologico della mielofibrosi, lo dice anche il termine stesso con cui viene indicato questa patologia, ma è un fenomeno spesso di tipo reattivo, cioè un'iperattività dei fibroblasti, di cellule che fanno parte del midollo dell'architettura, del midollo e che vengono stimolati a produrre fibrina e a depositare fibrina. Ci sono una serie di farmaci, in particolare la pentraxina, che sono degli inibitori del processo di proliferazione dei fibroblasti e della deposizione di fibrina. Le terapie, i ruxolitinib in particolare, in alcuni casi sono aneddoti o piccoli numeri all'interno delle casistiche, che mostra un miglioramento della fibrosi midollare, ma non è un farmaco che va ad agire prevalentemente sulla fibrosi midollare. La fibrosi midollare può migliorare in una quota di pazienti, ma non è uno degli effetti più tipici e più attesi della terapia con ruxolitinib e con altri inibitori. Invece questo farmaco, questa pentraxina, è un attore che potenzialmente potrebbe essere attivo sulla fibrosi midollare. È stato fatto uno studio di fase 2 che ha coinvolto 33 pazienti, quindi i numeri sono abbastanza piccoli. Di tutti questi studi non sono trattati migliaia di pazienti, ma sono corti, abbastanza selezionati i pazienti, che spesso hanno fallito diverse linee terapeutiche precedenti, e quindi con il limite del fatto che i numeri sono abbastanza piccoli, sicuramente c'è stato un effetto sulla fibrosi midollare, una regressione, una stabilizzazione in circa la metà dei pazienti, e con conseguente miglioramento dell'anemia e della piastinopenia, perché come vi mostrava il dottor Mauro, questi pazienti con mielofibrosi hanno una fibrosi di grado diverso, ma che va a sostituirsi al parenchima nobile emopoietico, quindi alle cellule che producono i globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine. Per cui ridurre la fibrosi è atteso che migliori anche i livelli dell'emoglobina e delle piastrine, quindi con trasfusione di dipendenza, in alcuni casi anche una riduzione della milza. Ma la grande strada che si prospetta davanti a noi, considerando, vi ripeto, quant'è la complessità del network molecolare che ha la base dei pazienti con malattie mieloproliferative, è la combinazione, cioè è improbabile che un singolo farmaco colpire una sola di quelle strade, come se tutte le strade portassero a Roma, se chiudo solo una di quelle strade, ne esistono molte altre per arrivare a Roma, e quindi essendoci diversi meccanismi alla base della malattia e delle sue manifestazioni cliniche, è più probabile che ci siano necessarie una combinazione di strategie, quindi l'insieme di farmaci diversi che vadano ad agire su diversi punti. Il cardine della terapia di combinazione naturalmente deve essere sempre l'inibitore di GEC, perché quella è l'alterazione numericamente più frequente e guida di tutte le altre, però ovviamente combinare con altri farmaci, combinare al fine di ottenere risposte più profonde, di colpire la cellula staminale, quindi quel precursore che non è colpito dalla terapia con gli inibitori con GEC2, e controbilanciare la mielosopressione indotta da ruxolitinib, che spegnendo l'interruttore provoca anche anemia piastrinopenia. E si possono aprire quindi sostanzialmente infinite vie di combinazione con farmaci immunomodulanti, come la talidomide o l'enalidomide, cui vi accennava il dottor Festini, terapie che regolino alcuni meccanismi di modificazione del DNA, come le terapie epigenetiche, alcuni farmaci che possono essere attivi sulla proliferazione e sull'anemia, come gli androgeni, terapie antifibrotiche, la pentraxina di cui vi parlavo prima, o inibitori di altre vie di trasduzione del segnale. Non andrò nel dettaglio, perché sono naturalmente, vedete, tutti i studi di fase 1, sono studi ancora in fase molto molto iniziale, e quindi su numeri molto molto piccoli di pazienti, però sicuramente si può pensare di combinare il ruxolitinib con molti farmaci, con i inibitori di diverse vie di trasduzione del segnale, quindi quelle vie che all'interno della cellula portano il segnale di proliferazione o di inibizione della morte cellulare. E ce ne sono diversi studi in fase iniziale che si sono dimostrati, diciamo, sicuramente efficaci, anche se in realtà nessuno di questi farmaci finora si è dimostrato in grado di stravolgere il quadro, però possono dare un pochettino, diciamo, fare un piccolo passo in avanti rispetto all'impiego del solo ruxolitinib, possono essere attivi di nuovo, come vi dicevo, sul grado della fibrosi, e diciamo, sono dei, comunque, il principio cardine che deve guidare questa associazione è quello di cercare di non avere un aumento di tossicità, non dare una somma di tossicità, ma eventualmente una sottrazione, ridurre la tossicità indotta dall'inibitore di GEC. E veniamo al, diciamo, all'argomento un po' più caldo e anche un po' più attuale, perché questo, il trapianto allogenico di midollo, è una procedura che viene utilizzata da molti anni per quanto riguarda le malattie mieloproliferative. Trapianto, naturalmente parliamo del trapianto allogenico, cioè quello da donatore, familiare o non familiare, chi e quando. Come vi è stato già detto, quando parliamo di trapianto allogenico, dobbiamo tenere presente che è una procedura, intanto che è una procedura, una strada dalla quale non c'è ritorno, cioè una volta fatto il trapianto, non è che si può ritornare indietro, non è come un farmaco che si può dare e poi sospendere. Il trapianto, naturalmente, è una procedura che una volta fatta, è fatta. E' ad oggi, naturalmente, l'unica, per molte malattie ematologiche, è l'unica ipotesi terapeutica che può dare la guarigione, perché è concettualmente la sostituzione di una cellula malata con una cellula sana. Quindi, per definizione, vado a togliere o uccidere la cellula malata e ne metto una sana. E quindi è la procedura curativa per eccellenza, è la procedura curativa anche per le malattie mieloproliferative croniche, nelle quali non siamo noi oggi in grado di eliminare la cellula staminale malata. E quindi, da un piatto della bilancia, naturalmente, è la guarigione, è l'aspettativa della vita. Abbiamo due, in prima fila, due esponenti di quello che è stato questo percorso. Forse ce n'è qualcun altro in sala. Quindi, sicuramente, su un piatto della bilancia, la guarigione, sull'altro i rischi. Perché, ovviamente, non dobbiamo dimenticarci che il trapianto allogenico ha una percentuale di mortalità legata alla procedura, perché per fare spazio alle cellule nuove bisogna uccidere le cellule vecchie. E come si uccidono le cellule vecchie? Con la chemioterapia, con la chemioradioterapia, quindi con una terapia che va a svuotare il midollo, sostanzialmente. Il midollo deve essere svuotato per fare spazio alle cellule nuove che poi dovranno proliferare. La fase di aplasia, cioè di svuotamento del midollo, è una fase in cui i globuli bianchi scendono a zero, le piastrine scendono sostanzialmente a zero, l'emoglobina cala e quindi il paziente ha tutta una serie di rischi infettivi, emorragici e quant'altro. Chi ha fatto questa procedura sa che richiede un ricovero di almeno un mese per la procedura tra la chemioterapia, la reinfusione e aspettare che le cellule reinfuse ripopolino il midollo e riportino sui valori di globuli bianchi e piastrine. E quindi c'è una mortalità proprio della procedura, quindi quel mese di ricovero, mese, mese e mezzo, quello che è, è gravato da dei tassi di mortalità su cui agiscono molti fattori, l'età del paziente, il tipo di patologia, non si può fare un numero che valga per tutti i tra... dire il trapianto ha una mortalità del X per cento, dipende a seconda della patologia, a seconda del paziente, delle comorbidità, perché è chiaro che un paziente che non ha altre patologie associate ha un rischio, un paziente che magari è un po' più anziano, che ha avuto un infarto magari, o che ha un diabete, che ha una dislipidemia, ha un rischio più alto. Però se vogliamo dare un numero molto molto a spanne, un 10, 15, 20 per cento dei pazienti che fanno il trapianto muoiono di trapianto e ovviamente quindi è come quando salti nel cerchio di fuoco, puoi bruciarti effettivamente, quindi non è una scelta, e torno alla domanda che faceva il nostro ospite oggi, non è una procedura che si fa a cuor leggero, perché devi mettere su un piatto della bilancia questo rischio immediato, ma con il trapianto, cioè diciamo i rischi del trapianto, e credo di non dire nulla di nuovo anche agli amici che siedono in prima fila, non si esaurisce con il mese di ricovero, il mese e mezzo, perché dopo entra in ballo tutto un discorso di bilancia immunologica, perché noi quando andiamo a dare una cellula emopoietica, quindi un midollo nuovo, diamo anche un sistema immunitario nuovo, perché il midollo è quello che produce tutte le cellule del sangue, tra le cellule del sangue ci sono i linfociti, che sono i soldati del nostro sistema immunitario, e quindi quando noi andiamo a dare un midollo nuovo, diamo un sistema immunitario nuovo, il sistema immunitario può dare il fatto che un sistema immunitario nuovo, diverso, è mai completamente identico a quello del paziente, perché gli unici identici sono due gemelli singenici, due gemelli identici, quelli hanno lo stesso, sono uguali, sono identici in tutto e sono identici nel loro midollo, quindi in questo caso fare un trapianto tra due gemelli singenici non dà problemi di tipo immunologico, ma sono casi eccezionali, quanti hanno un gemello identico, pochissimi, per cui quando si va a trovare un fratello o una sorella compatibile, oppure un donatore da registro, sono una compatibilità che è testata su una serie di molecole, ma non è assolutamente identico al paziente, e quindi si dà un sistema immunitario nuovo, che può quindi non riconoscere perfettamente l'organismo in cui è stato messo, e quindi nel trapianto di midollo non c'è tanto il problema del rigetto così inteso per il trapianto d'organo solido, il paziente che riceve un fegato, riceve un fegato che è diverso, e quindi il sistema immunitario del paziente che riceve il fegato dice questo fegato non è mio, lo aggredisco, ho una reazione immunologica, il famoso rigetto d'organo, di fegato, di cuore. Quando si va a dare un midollo, è il midollo che non riconosce la casa in cui è stato messo, e quindi può dare una sorta di rigetto generalizzato, e quindi è il midollo che non riconosce il fegato del paziente, non riconosce il cuore, non riconosce il polmone, la pelle e l'intestino, e quindi da quella che è chiamata la malattia da trapianto contro l'ospite, una malattia di reazione immunitaria generalizzata che può essere anche molto grave, di cui ci sono naturalmente diversi livelli, non tutti i pazienti fortunatamente hanno questa reazione, c'è chi ce l'ha in modo molto lieve, chi ce l'ha in modo molto marcato, ma è comunque una complicanza potenzialmente molto severa per la vita del paziente o per la sua qualità, che richiede una terapia immunosoppressiva, quindi prendere dei farmaci e quindi il trapianto è veramente un triplo salto mortale nel fuoco e lo dico lavorando in un centro che i trapianti allogenici vi fa e ne fa anche un numero abbastanza importante, siamo uno dei centri che in Italia fa il numero maggiore di trapianti allogenici, ma non per questo non riconosciamo che non ci siano delle problematiche nell'immediato e nel futuro, quindi la scelta di fare un trapianto naturalmente deve essere sempre ben bilanciata ed è per questo che, sentendo anche quello che vi ha detto la dottoressa Ciancia, quello che vi ha detto il dottor Silvestri, nella trombocitemia essenziale e nella policitemia vera, che sono delle malattie a lunga aspettativa di vita in cui ci sono sicuramente delle potenziali complicanze ma ci sono anche delle terapie, nessuno propone una procedura che ha un rischio di mortalità del 20% nei primi mesi dopo il trapianto e un rischio di complicanze anche severe, anche a lungo termine nei restanti anni della vita del paziente, per cui chiaramente la bilancia pende più dalla parte dei rischi che dalla parte dei benefici. Diverso il discorso della mielofibrosi che è una malattia biologicamente più aggressiva in cui l'ipotesi trapiantologica sicuramente ha un suo peso. Quali sono i numeri del trapianto allogenico? Il trapianto allogenico viene utilizzato per molte patologie ematologiche e naturalmente la prima indicazione al trapianto sono le leucemie acute sia di tipo mieloide che di tipo linfoide e poi esiste tutto un pannello di altre patologie e vedete che per quanto riguarda l'attività trapiantologica le sindrome mieloproliferative croniche che non siano la mieloide cronica che una volta era una forte indicazione al trapianto ma che adesso con i farmaci molto attivi è diventata un'indicazione sostanzialmente nulla al trapianto le sindrome mieloproliferative in cui c'è sostanzialmente solo la mielofibrosi sono insieme alle sindrome mielodisplastiche che sono delle patologie se le tre malattie sono sorelle le mielodisplastiche sono delle patologie cugine sono patologie sempre della cellula staminale emopoietica ma con caratteristiche con caratteristiche cliniche diverse e quindi non abbiamo il numero preciso di quante mielofibrosi vengono trapiantate in Italia in Europa e nel mondo perché sono associate alle mielodisplasie quello che possiamo dire è che un protocollo generato dal gruppo italiano trapianto di Midollo che ha coinvolto pazienti con mielofibrosi ha arruolato fino ad ora circa 10% 10 casi all'anno il che non vuol dire che in tutta Italia si fanno 10 trapianti per la mielofibrosi sono sicuramente di più ma parliamo di qualche decina di casi io non ho il numero assoluto di quanti trapianti vengono eseguiti per mielofibrosi però lo possiamo estimare in qualche decina in tutta Italia e se consideriamo come si diceva l'incidenza la prevalenza della malattia il trapianto la mielofibrosi è limitato è limitato a un selezionato gruppo di pazienti perché così pochi trapianti abbiamo già detto perché il trapianto ha un costo biologico elevato perché la mielofibrosi è una patologia prevalentemente dell'adulto anziano e che molti pazienti sono al di là di quelli che vengono considerati i limiti per l'esecuzione di un trapianto allogenico qual è il limite di età per fare un trapianto la sticella si sta alzando con il fatto che noi adesso conosciamo meglio la biologia del trapianto e le complicanze del trapianto e che siamo in grado di utilizzare dei cicli dei regimi di condizionamento quella chemioterapia per fare spazio che sono meno intensivi che in passato un trapianto può essere fatto con un regime di chemioterapia preparatorio che svuoti il midollo completamente o parzialmente la metto un pochettino semplice è chiaro che un regime di condizionamento cosiddetto non ablativo non completamente svuotante il midollo è un regime con farmaci a dosi più basse e quindi potenzialmente meno tossici e quindi questo alza la possibilità di fare il trapianto anche a dei pazienti un pochettino più anziani fino a una decina di anni fa si considerava il limite di età per eseguire un trapianto allogenico 60 anni poi piano piano perché si considera che un paziente di 70-75 anni è un paziente che al di là del singolo caso particolarmente fortunato che mostrano l'84enne che fa la scalata al monte Everest ma mediamente un paziente più anziano ha un fegato più anziano un cuore più anziano dei polmoni più anziani e quindi è un organismo più debole in cui la tossicità si eleva in modo inaccettabile quindi quel 10% diventa 20-30-50-90% quindi con i regimi di condizionamento cosiddetto convenzionale mieloablativo il limite di età è più basso e vedete che anche le casistiche riportate vedete studi statunitensi studi europei inglesi francesi italiani hanno coinvolto un numero di pazienti significativo ma non elevatissimo non ci sono studi con 3000 trapiantati ma vedete quelli che ne hanno di più hanno circa 200 pazienti con un'età mediana relativamente bassa 40-45 38-47 50 anni l'età mediana il che vuol dire che ci sono i ventenni e c'è qualche sessantenne ma mediamente sono delle persone giovane o relativamente giovani con un tasso di successo come vedete variabile ma i numeri non c'è il 9 davanti non c'è il 97% il 95% parliamo di tasso di successo inteso in senso è semplificata naturalmente molto più complesso come vi dicevo ma un tasso di successo che va dal 30 al 40 al 50 forse al 60% però numeri significativi importanti ma non completamente rassicuranti con dei tassi di mortalità per il trapianto per le complicanze post trapianto assolutamente significative con il trapianto cosiddetto di intensità ridotta che è una procedura molto più recente si è alzata l'asticella dell'età perché sono dei cicli meno intensivi e quindi si può considerare oggi candidato a un trapianto un paziente fino a 70 anni in linea di massima ovviamente sono procedure più recenti che si fanno da meno anni e quindi anche l'esperienza è minore le casistiche sono più piccole però vedete che si è un pochettino alzata l'età media è passata dai 40-50 tra i 50 e i 60 55 anni con dei tassi di successo che sembrano essere un pochettino migliori non si può fare una semplice somma e una divisione sono esperienze diverse però vedete che alcune casistiche hanno dei tassi per quanto piccolo hanno dei tassi di sopravvivenza in cui il numero diventa un pochettino più elevato 80-85% ci sono anche delle casistiche molto meno favorevoli però complessivamente una procedura più diciamo più tollerate che quindi apre l'opzione trapianto anche a dei pazienti più in là con gli anni ma qual è il dilemma del trapianto che un po' il paziente il signore di prima sollevava questa è una curva molto molto generale non è rivolta alla mielofibrosi una curva generale vedete il trapianto è una mortalità molto vicina nel tempo immediata quella mortalità peritrapiantologica hai una quota di mortalità e morbidità più in là nel tempo gli effetti immunologici le infezioni le recidive di alcune malattie perché una leucemia acuta dopo il trapianto può anche tornare sfortunatamente fuori ma poi una quota di pazienti che può essere variabile 30-40-50-60% diciamo che sia il 50% così tanto per farla facile sopravvive a lungo termine e quindi è guarito quindi questi sono i pazienti guariti allora se abbiamo una malattia che con le cure convenzionali va così muoiono tutti una malattia incurabile è chiaro tutti subito se possibile se ne hanno le caratteristiche se hanno un donatore ma se abbiamo una malattia che va così e in cui la sopravvivenza a lungo termine è di questo tipo qua viene detto nessuno mai chi dovrebbe affrontare il rischio del 30% di mortalità nel primo mese quando l'alternativa è essere sicuramente vivo dopo 3 quasi sicuramente vivo dopo 3 6 mesi o 12 mesi alla fine la realtà anche della mielofibrosi è questa che la sopravvivenza è questa e quindi ci giochiamo un rischio immediato per avere un beneficio futuro e in questo caso è molto difficile stabilire quando queste due linee si intersecano e quale sia il timing migliore per andare al trapianto i risultati del trapianto dipendono dal rischio della mielofibrosi ed è quello che già vi diceva prima il dottor Festini vi accennava la mielofibrosi si diciamo classifica tipicamente in 4 classi di rischio basso intermedio 1 intermedio 2 o alto e se noi vediamo quali sono i pazienti vivi a 5 anni con le procedure con le terapie convenzionali o con il trapianto vedete che da un lato i pazienti trapiantati con una malattia a basso rischio proprio perché hanno una malattia meno avanzata milse più piccole meno blasti meno anemici vanno meglio nel lungo termine hanno delle sopravvivenze vicino al 70% mentre una malattia trapiantata in fase avanzata ha un outcome peggiore dall'altro lato però senza fare il trapianto i pazienti a basso rischio hanno un'aspettativa di vita vicino al 100% i pazienti a rischio intermedio stanno a metà i pazienti a rischio alto hanno una possibilità di essere vivi a 5 anni molto bassa quindi se nel rischio alto non c'è dubbio che il trapianto vada meglio se si può fare se c'è il donatore se c'è l'età eccetera eccetera e nel rischio basso non c'è un'indicazione perché non c'è una realistica aspettativa di un beneficio della procedura trapiantologica il gioco si fa difficile la situazione e la scelta si fa più ardua nei rischi intermedio naturalmente perché il mondo non è tutto bianco tutto nero ma c'è un'infinita varietà più di 50 sfumature di grigio ma ce ne sono 100 o 1000 perché ogni paziente ha la sua storia il suo percorso le sue aspettative e quindi nei pazienti a rischio intermedio la situazione è un pochettino più fluida e va valutata caso per caso teorica tendenzialmente il rischio intermedio 2 è più vicino all'alto rischio quindi il vantaggio e il beneficio c'è anche di una strada dalle curve nell'intermedio 1 come giustamente diceva il dottor Fettini solo per alcune caratteristiche perché anche i pazienti a rischio intermedio 1 non sono tutti uguali c'è il quarantenne a rischio intermedio 1 e c'è il settantenne c'è quello che è intermedio 1 solo per l'età o quello che è intermedio 1 perché i blasti circolanti sono pazienti diversi in cui deve essere fatta una valutazione soggettiva e quindi è così insomma quindi il paziente a basso rischio è nelle acque tranquille e può stare nelle acque tranquille il paziente a rischio intermedio è un pochettino più vicino alla cascata il paziente a rischio alto è un paziente ad elevato rischio di trasformazione in cui l'opzione trepentologica naturalmente deve essere tenuta in considerazione tenendo presente che cos'è che fa il rischio e questo lo sapete già la domanda che è aperta ancora è se il ruxolitinib può migliorare l'esito del trapianto come agisce il ruxolitinib agisce riducendo sicuramente la milza i sintomi e quindi anche la denutrizione l'iponutrizione la sazietà precoce dei pazienti e quindi questi sono sicuramente degli effetti positivi del ruxolitinib sull'outcome del trapianto il ruxolitinib però una volta sospeso può dare rapidamente una ricrescita della milza e quindi c'è anche un discorso di un paziente che arriva in ruxolitinib al trapianto di ridurre il ruxolitinib progressivamente fino all'inizio della procedura di condizionamento al trapianto per evitare una sindrome da sospensione però ruxolitinib è un farmaco che può avere un aumentato rischio infettivo questo ve l'ha detto il dottor Silvestri parlando di policitemia vera effettivamente c'è un aumento del rischio infettivo quindi ancora non sappiamo non abbiamo casistiche amplissime di pazienti trapiantati trattati con ruxolitinib l'esperienza si sta facendo però è un punto di attenzione quello che è il punto di domanda è se l'utilizzo del ruxolitinib rischia di ritardare il trapianto cioè noi abbiamo un paziente che è candidato a fare un trapianto inizia la terapia con ruxolitinib per ridurre la milza per migliorare i sintomi per aumentare di peso poi risponde bene alla terapia e allora cosa fare interrompo una strada che mi sta dando un beneficio per andare al trapianto o aspetto e se aspetto rischia di passare il tempo e che il paziente tra 5 anni è più vecchio oppure si fa una infezione intercorrente e me lo rende più a rischio per la procedura del trapianto quindi come vedete non c'è una risposta univoca ma è un quadro molto complesso e molto fluido molto liquido che può cambiare per diversi per diversi motivi per quanto riguarda la polistemia vera e la trombocitemia essenziale vado molto veloce perché ve ne hanno già parlato i miei colleghi la nagrelide farmaco di cui vi ha parlato estensivamente molto bene dottoressa Ciancia parlando di trombocitemia essenziale un farmaco che inibisce la produzione di piastrine queste sono le dose che va aggiustato è sicuramente un farmaco efficace perché vedete che riduce questo è un grafico di com'era l'andamento delle piastrine nei pazienti prima di iniziare la nagrelide mediamente sopra il milione in questa casistica e poi scendono rapidamente e si attestano a livelli quasi normali quindi sicuramente un farmaco molto efficace sia negli studi clinici che nella pratica è un farmaco che ormai ha una lunga storia molti anni di terapia e questi dati di efficacia si sono mantenuti nel tempo per quanto riguarda il controllo delle piastrine naturalmente abbiamo detto ha degli effetti collaterali come tutti i farmaci non esiste farmaco che non abbia degli effetti collaterali perché un farmaco che non ha degli effetti collaterali è solo l'acqua fresca del rubinetto e forse neanche quella naturalmente bisogna sempre bilanciare come per il trapianto rischi e benefici di una terapia sicuramente ha degli effetti collaterali di tipo cardiologico come vi dicevo non sulla irrorazione cardiaca ma sulla frequenza e sul ritmo cardiaco quindi palpitazioni tachicardie e quindi limitare l'utilizzo di sostanze che possono causare di per sé tachicardie o palpitazioni può dare ritenzione di liquidi può dare può dare una diarrea l'interferone l'abbiamo già detto è un farmaco che è stato che ha una lunga storia che è stato approvato per molte patologie non ematologiche per l'epatite è stato utilizzato l'interferone è stato utilizzato anche per diverse forme leucemiche la mieloide cronica prima degli inibitori delle tirosinochinasi la leucemia cellule capellute dalla fine degli anni 80 è stato utilizzato anche nelle malattie mieloproliferative prevalentemente nella trombocitemia essenziale è un farmaco che ancora non conosciamo non sappiamo come agisce l'interferone è sicuramente un farmaco che con meccanismo ancora come vi dico largamente sconosciuto inibisce la proliferazione dei progenitori emopoietici sembra essere selettivo nei confronti del clone malato in pazienti GEC2 positivi trattati con interferone il clone GEC sembra ridursi quindi non è un effetto generale sembra essere un effetto anche sul clone malato ha un'attività prevalentemente a livello dei megacariociti il che spiega perché viene utilizzato prevalentemente nella trombocitemia essenziale ed è l'unico farmaco come è stato detto che non ha un effetto teratogeno come ha detto bene la dottoressa Ciancia non passa la placenta non si trova nel sangue del feto e quindi è l'unico farmaco considerato sicuro in gravidanza l'interferone l'esperienza è come vi dicevo prevalentemente nella trombocitemia essenziale è sicuramente un farmaco efficace con dei tassi di risposta importante intorno all'80 85% tassi variabili che vuol dire che c'è il paziente che risponde completamente il paziente che risponde parzialmente ma è sicuramente in grado di controllare il numero delle piastrine però è una terapia difficile è una terapia che non esiste per forma orale perché sarebbe degradato nello stomaco quindi non esiste la possibilità di pensare a un interferone per bocca va fatto per via sottocutanea va fatto o tutti i giorni o tre volte alla settimana e quindi una quota ha degli effetti collaterali gli interferoni sono le sostanze che vengono prodotti durante le infezioni virali tipicamente quando si ha l'influenza nel nostro organismo i nostri linfociti producono interferoni e sono quelli che sono responsabili dei brividi dei dolori osteomuscolari delle mialgie sono di tutta quella sindrome simile influenzale per cui chi ha provato l'interferone credo che abbia avuto la spiacevole sensazione di avere soprattutto nelle prime somministrazioni tutto un corteo di sintomi non sempre di facile controllo appunto per cui la principale causa di interruzione della terapia non è perché il farmaco non è efficace ma perché il farmaco non è tollerato sindrome pare influenzale l'alterazione della funzione tiroidea malattia autoimmune è un farmaco creativo sul sistema immunitario quindi può scatenare o peggiorare delle manifestazioni tipo autoimmune l'avanzamento per quanto riguarda la terapia con l'interferone è modificare l'interferone anche perché l'interferone ha una vita molto breve per cui deve essere somministrato ogni giorno ogni secondo giorno tre volte alla settimana la soluzione a questo diciamo a questo problema è stato quello di attaccare l'interferone a una molecola le cosiddette forme peghilate si attaccano a una molecola che aumenta l'emivita del farmaco quindi aumenta la durata dell'effetto del farmaco e ne riduce le somministrazioni fino a scendere a una somministrazione alla settimana ogni dieci giorni perché ne aumenta la stabilità riduce il picco di concentrazione quindi lo mantiene dei livelli efficaci per un periodo più lungo e anche sembrano dare una migliore tolleranza al trattamento le forme peghilate di interferone sono approvate per l'utilizzo nelle epatiti ma non lo sono per le malattie mieloproliferative quindi ad oggi chi usa l'interferone nelle malattie mieloproliferative deve usare l'interferone vecchio stile perché gli interferoni peghilati non sono approvati interferoni che sono farmaci sicuramente efficaci la solita curva che mostra la riduzione del numero delle piastrine questi studi sia di polistemia vera e trombocitemia essenziale però il controllo è prevalentemente sulla conta piastrinica più che sull'ematocrito oltretutto l'interferone questi sono tutti studi clinici dove si possono utilizzare delle molecole ancora non approvate in commercio l'interferone peghilato dà delle risposte come vi ho detto anche molecolari cioè riduce il clone jack mutato e quindi probabilmente è un farmaco che è attivo anche proprio sulla biologia e che ha una certa capacità eradicante a prezzo di tossicità non indifferenti il ruxolitinib nella polistemia vera ne ha già parlato dottor Silvestri quindi passo molto molto rapidamente vi ha già mostrato questa diapositiva sicuramente efficace nel controllare la milza e nel controllo dei valori dell'ematocrito e oltretutto non è solo in grado di controllare la milza e l'ematocrito ma agendo anche sulle piastrine e sui globuli bianchi riduce tutti gli altri fattori di rischio di tipo trombotico la leucocitosi e in misura molto molto minore la piastrinosi che cosa c'è che cosa bolla in pendola questi sono tutti studi in varie fasi a parte il trapianto che ovviamente è una procedura ma sono tutti farmaci o vecchi o in fase di rivalutazione o in fase ancora di valutazione noi a Udine vi dico quello che c'è in casa nostra abbiamo solo un protocollo che è in fase di sottomissione al comitato etico verrà analizzato dal comitato etico la prossima settimana quindi ancora non sappiamo se ci daranno l'ok per questo protocollo è un protocollo nazionale di utilizzo nei pazienti di utilizzo dell'interferone peghilato quindi una di queste forme di interferone a lunga e mi vita e presumibilmente a bassa tossicità in pazienti con policitemia vera a basso rischio per vedere quindi quei pazienti che dovrebbero fare salassi per vedere salassi aspirina per vedere se salassi aspirina contro salassi aspirina e questa forma di interferone migliora la percentuale di pazienti che rispondono alla strategia terapeutica questo è un protocollo che come vi dicevo è in fase di valutazione dal comitato etico regionale vedremo nelle prossime settimane se sarà approvato in caso dove è per una quota molto piccola di pazienti non è per tutti i pazienti con policitemia vera come tutti i protocolli ci sono dei criteri di inclusione non è che tutti i pazienti possono entrare in un protocollo però sicuramente se sarà approvato passerò l'informazione alle altre ematologie della regione che se hanno qualche paziente che vuole fare questo vuole tentare questo protocollo daremo la nostra disponibilità a seguire i pazienti perché è importante questo vi dico delle cose molto banali che valgono per le malattie mieloproliferative ma per tutte le malattie che cosa comporta la partecipazione a uno studio clinico ai protocolli sperimentali naturalmente comporta come per tutta diciamo la gestione di un paziente un'informazione del paziente ma che in un protocollo è molto più standardizzato un paziente deve firmare un consenso informato in cui accetta un trattamento sanitario in modo libero informato e quant'altro e richiede naturalmente delle procedure dello studio lo studio clinico è molto più schematizzato e standardizzato rispetto alla pratica quindi magari ti impone di fare una visita ogni mese quando vedresti il paziente ogni tre o di fare un prelievo in più perché è necessario per una valutazione della risposta quindi ha sicuramente qualche diciamo qualche controindicazione se vogliamo dire il fatto di fare esami talvolta non richiesti visite più frequenti o prelievi da fare in un centro che possa essere non quello sotto casa quello che ti segue proprio perché magari vieni riferito a un altro centro che può essere anche molto lontano dal centro in cui viene seguito naturalmente ha dei vantaggi oltre al vantaggio generale di migliorare di dare un contributo alla ricerca di migliorare quello che sarà naturalmente se non ci fossero i pazienti arruolati nel ruxolitinib oggi non avremmo il ruxolitinib e questo è un discorso generale però per il singolo paziente al di là di quello che è un disegno più alto e più grande un paziente sicuramente in uno studio clinico fa maggiori controlli sia clinici che di laboratorio e ha un accesso a terapie innovative altrimenti non disponibili perché questi farmaci non sono ancora in commercio perché sono ancora in fase di analisi e con questo io ho concluso